Sì, anche secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo cercato di metterli in difficoltà e andava bene. Poi secondo me c'è mancato un po' l'ultimo passaggio, perché abbiamo sbagliato due o tre occasioni e si poteva fare gol. Però ci dispiace. Sì, lo sappiamo che l'Inter è una grande squadra, abbiamo cercato di lavorare con il Mista, ha cercato di metterci nelle condizioni migliori. Poi per me ho cercato di fare quello che so fare, giocare come sempre, poi sono forti, palleggiano bene, ci hanno fatto correre, tanto direi. È un sogno, è un sogno che sto vivendo, cerco di dare sempre il massimo, perché ho la fiducia da parte di tutti qua e io cerco di ripagare.